Mary J.A.S.M.S. Ciao 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 Bentrovato o bentornato sul mio canale io sono Mary J.A.S.M.L. se ancora non mi conosci ti invito ad iscriverti al canale e di lasciarmi un like per supportare il mio canale gratuitamente se ti piacciono i miei video il video di oggi è un video post 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 aggressive dedicato indovina 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 un po' dedicato 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 a dead movement oggi ti farò addormentare soltanto con l'uso della mia voce ma soprattutto quello delle mie mani in modalità basta ci proviamo ah dimenticavo se non ti piace questo video non è il tuo genere schippa e ci rivediamo in un prossimo video scrat Scratch Faccio spottimo Nella tua mente Blac 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 Bl destrugga plak 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 Sì, sì, sì. Relax Relax Stuck, nezuna Stuck, nezuna Distuck, distuck look, look Corso il corpo guardale tra la tua mano guarda la tua mano guarda 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 ecco Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Scratch Relax 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 relazati relazati dormire 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 chiedi 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 gli occhi prova a dormire 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 vные ! itus Black Plac, 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 plac. Relax. 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 Calm down. Relax. 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 relax 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 spero 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 che tu possa dormire possa dormire 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 più rilassato e sereno e ti do 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 appuntamento 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 al prossimo video ciao ciao